Presidente Boron, ci spiegagli, ci riassuma perché quindi la scelta del nuovo ospedale di Padova ricade su Padova Est? Ma credo sia stata una scelta oggettiva, anzi è sicuramente oggettiva, sulla valutazione di una disponibilità di aree su Padova, sulla città di Padova, di una dimensione sufficiente a fare il nuovo policlinico con il campus universitario, la scelta non è altro che quella di Padova Est. Tutti sappiamo che Padova Ovest è di privati, quindi ci sarebbero voluti molti milioni di euro per acquisirla, l'aeroporto seppur una bella area disponibile, ma essendo demaniale parliamo molto probabilmente fra 4-5 anni perché si devono fare le procedure di acquisizione da parte del demanio, il trasferimento di 380 persone che ci vivono dentro con i familiari militari. Padova Est è disponibilità del comune di Padova da domani mattina, quindi per chi vuole veramente l'ospedale di Padova nuovo, il nuovo policlinico con urgenza, questo non solo per i padovani ma per i veneti, sa che Padova Est mette la possibilità già da quest'anno di poter parlare di gare d'appalto. L'area disponibile subito dà la possibilità di queste tempistiche, una possibile gare d'appalto fra la fine di quest'anno e i primi dell'anno prossimo, primo semestre 2017, la possibilità di aggiudicazione di una gara nel 2018 e quindi la posa della prima pietra fra il 2018, primo e secondo semestre. Quindi tempo 5 anni, quindi 2022-2023, ospedale fatto.